Ciao a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Book Club di Culturamente, i postumi letterari. Oggi ci occupiamo di Una ragazza perfetta, il libro edito da HarperCollins, scritto da due autrici americane. La prima, Candace Bushnell, probabilmente la conoscete perché è autrice del famoso Sex and the City, invece la seconda, Cotugno, è nota per aver scritto un romanzo dal titolo Il più bello sbaglio della mia vita. Prima di addentrarci nel commento della lettura del mese di luglio, vorrei leggere con voi un passo importante del libro, rappresentato dall'articolo scritto dalla protagonista, Merin, la quale pubblica a un certo punto sul giornalino scolastico questo articolo da lei firmato, che rappresenta un po' una svolta a livello narrativo e anche per il suo personaggio. Questo articolo è importantissimo non solo perché dà, se vogliamo, il titolo al romanzo, ma anche perché racchiude un po' quello che è il tema fondamentale di questo libro. L'articolo si intitola Le regole della ragazza perfetta. Accade ancora prima che tu possa averne coscienza. Come impari a camminare e parlare, così impari le regole per essere una ragazza. Sei una vera principessa, la piccolina di papà, non fare la permalosa. Coraggio, dagli un bel abbraccio. Che dolce che sei, proprio una brava bambina. Non puoi ricordare quei giorni lontani, ma tutto questo invece lo ricordi di sicuro. Le lezioni di danza classica, il body rosa che tendeva sul tuo pancino e la preoccupazione dei tuoi genitori al pensiero che in futuro potessi soffrire di disturbi alimentari. Ricordi di aver provato a ballare il tip-tap o a giocare a calcio, oppure a suonare uno strumento musicale. Ricordi vogliamo che tu sia felice. E ricordi di aver confermato di esserlo perché sapevi che era quello che volevano sentirsi rispondere. Da quant'è che dici quello che gli altri vogliono sentirsi dire? E intanto passiamo noi anni e ormai le ragazze possono fare quello che vogliono. E allora fai sentire la tua voce, forte, più forte. Ma non dimenticare le buone maniere, signorina. A scuola c'è un ragazzo che ti infastidisce? Difenditi! A scuola c'è un ragazzo che ti infastidisce? Ma starò solo cercando di attirare la tua attenzione. Ti piacciono i brillantini, i unicorni e i rosa? Ma che sciocchezze! Ti va di giocare a questo gioco? Oh peccato, le ragazze non sono ammesse. Dai un po' di colorito al viso, depilati le gambe. Non truccarti troppo, non mettere la minigonna. Non distrarre i ragazzi indossando body o top con le spalline sottili o calzettone al ginocchio. Non distrarre i ragazzi avendo un corpo. Non distrarre i ragazzi. Non essere una di quelle ragazze che non mangiano mai la pizza. Ma davvero vuoi ordinare un altro frullato? Wow. Sei ingrassata? Non dimagrire tanto da far sparire le curve. Non diventare tanto formosa da non essere più magra. Non occupare troppo spazio. È per la tua salute. Sii divertente, ma non monopolizzare l'attenzione. Sii intelligente, ma ricorda che hai ancora un sacco da imparare. Non essere remissiva, ma non usare fare la prepotente. Sii disponibile, sii alla mano, sii complice dei tuoi amici maschi, ma non comportarti come i tuoi amici maschi. Sii femminista, supporta la sorellanza. Aspetta un attimo, non sarei mica gay. Certo, se c'è lui che guarda, magari prova a baciare una ragazza perché lo troverà sexy. Mettiti in mostra. Non pensare nemmeno lontanamente di metterti in mostra. È un'indecenza. Non essere una che ci sta. Non darla via facilmente. Ma non fare la santarellina. Non fare la frigida. Non frenzonarlo. Non mostrarti disperata. Non permettere che le cose si spingano troppo in là. Non dargli l'idea sbagliata. Non biasimarlo per averci provato. Non andare in giro da sola di notte. Però rilassati. Non stare sempre a preoccuparti. Sorridi. E ricorda sempre. Non c'è mai stato periodo storico migliore di questo per essere una ragazza. Puoi fare tutto. Puoi fare di tutto. Puoi essere qualunque cosa tu voglia. Basta che rispetti le regole. Ok, questo articolo, scritto dalla protagonista, è un momento fondamentale all'interno della storia del romanzo. Come potete vedere, questo articolo è ricco di una serie di antitesi. Cioè si dice tutto è il contrario di tutto. Ed è molto interessante perché poi queste affermazioni che dicono una cosa e poi subito dopo la negano sono poste una dietro l'altra in una sorta di flusso di coscienza continuo. Ed è ovviamente un articolo provocatorio, un articolo all'interno del quale si vogliono mettere in luce tutta una serie di contraddizioni che caratterizzano la società di oggi quando si parla di femminile. Ok, perché in realtà credo che nella lettura di queste regole ognuna di noi, ma anche ognuno di noi in generale, possa ritrovarci qualcosa che sia fortemente reale, qualcosa che ognuno di noi ha vissuto o si è sentito dire o ha sentito dire almeno una volta nel corso della propria vita. Marine scrive questo articolo in un momento sicuramente molto delicato della sua vita. Lei è una ragazza diciassettenne che sta attraversando l'ultimo anno scolastico, sta aspettando di essere ammessa al college dove ha sempre desiderato andare. E potremmo dire rappresenta la classica ragazza teenager americana popolare, ha una migliore amica con la quale condivide tutto. È appunto autrice del giornalino scolastico, ha ottimi voti, ha un ragazzo che partecipa all'attività sportiva della scuola ed è appunto una ragazza che si è sempre comportata come ci si aspettava che lei si comportasse senza farsi particolari problemi rispetto a questo. All'inizio del romanzo la vediamo anche invaghita del suo professore di lettere. È infatti affascinata dall'intelligenza mostrata da quest'uomo, tant'è che appunto cerca di, potremmo dire, attrarre la sua attenzione nella maniera bonaria in cui le diciassettenne invaghite cercano appunto di stare intorno ai ragazzi di cui sono invaghite. Si tratta ovviamente di una cotta del tutto idilliaca, di un'attrazione del tutto vissuta nella mente e basta. E ce ne rendiamo conto nel momento in cui questo professore, che comunque sin da subito mostra un interesse verso questa ragazza, a un certo punto la bacia, la porta a casa sua e la bacia. Dopo questo bacio Marine si ritrae immediatamente e da lì inizia a fare una serie di considerazioni rispetto al suo atteggiamento, perché ovviamente la prima cosa che pensa è di essere in parte responsabile, di essersela cercata, perché si è comportata in un determinato modo. Da lì però inizia a riflettere su quelle che sono le aspettative sociali e culturali legate al suo sesso e decide di comportarsi in maniera del tutto diversa. Quindi scrive questo articolo, lascia il suo fidanzato, decide di iniziare un club del libro femminista all'interno della scuola e infine arriva anche a denunciare quello che è successo al preside della scuola. Ovviamente da lì inizieranno tutta una serie di problemi, perché non solo non è creduta dal preside stesso, ma anche la maggior parte degli studenti le si mette contro in quanto ritiene che abbia esagerato, che comunque sia in parte responsabile di quello che è successo. È chiaro quindi, anche solo da quanto abbiamo letto, da quello che vi ho raccontato, che all'interno di questo libro il tema principale è ovviamente il femminismo. È un racconto all'interno del quale si parla del problema delle donne che non vengono credute quando denunciano un tipo di abuso, perché molto spesso le si ritiene responsabili o corresponsabili di quanto è successo. È quindi molto interessante perché proietta questa situazione all'interno del mondo scolastico, quindi all'interno degli anni dei teenager. E infatti io direi che questo libro è adattissimo per essere letto da studenti, da giovani studenti, probabilmente del liceo superiore, quindi del liceo, per essere, delle scuole superiori, per essere, diciamo, da introduzione a quelle che sono le tematiche del femminismo. C'è da dire che per chi mastica questi argomenti da un po' di tempo, come ad esempio faccio io, alcune cose descritte all'interno di questo romanzo possono risultare un po' didascaliche, un po' troppo dette. Tra l'altro mi è capitato di leggere questo romanzo poco dopo aver visto al cinema Una donna promettente, di cui trovate la mia recensione su Culturamente, quindi se volete saperne di più potete rifarvi all'articolo. Però in questa sede vi basti sapere che si tratta di un film all'interno del quale si parla, il tema è praticamente lo stesso, ovvero si parla di un abuso, lì molto più grave perché si parla di stupro, che viene denunciato ma la vittima non viene creduta in quanto ubriaca. La cosa molto interessante però di quel film è il fatto di non essere didascalico, quindi tutto ciò che vi vuole dire a proposito del femminismo, dell'ingiustizia, del non essere credute perché vittime di uno stereotipo sociale o di un pregiudizio a livello culturale, ve lo racconta, ve lo fa vedere, quindi ve lo mostra. Invece all'interno di questo libro molti pregiudizi, molti stereotipi vengono denunciati in maniera molto aperta, appunto leggermente didascalica, il che può risultare pesante magari per chi è più grande e per chi certi argomenti comunque è ormai abituato a sentirli o è consapevole di tante cose. Invece per chi è completamente a digiuno di queste cose o comunque ha iniziato a sentirne parlare, è sicuramente un libro molto interessante perché vi racconta una storia scritta bene, sviluppata bene e vi mette per la prima volta di fronte a determinati tipi di disuguaglianze. La cosa che ho trovato più interessante, come si leggeva all'inizio dell'articolo, è proprio il fatto che oggi parlare di femminismo molto spesso è difficile perché si dice appunto, ma ormai le donne a livello di diritto, soprattutto in alcuni paesi europei o comunque del mondo occidentale, hanno raggiunto l'obiettivo per cui si combatteva all'inizio novecento, ovvero quello di avere i stessi diritti dell'uomo, verissimo, ma diciamo che vedersi riconosciuti alcuni diritti su carta non significa che poi nella vita quotidiana questi diritti valgano sempre, anche perché appunto ci sono ancora dei fortissimi pregiudizi a livello culturale e sociale che influiscono sulla vita di tutti i giorni in maniera più o meno pesante, che riguarda in primis, in realtà ce ne sarebbero tantissime, però può riguardare il disagio che una persona può avvertire nel modo di vestire, nel modo di comportarsi, può riguardare il modo di sentirsi all'interno di un determinato ambiente lavorativo, il modo di sentirsi in società se non si è accompagnate, se non si è sposate ad una certa età, cioè ci sono tutta una serie di categorizzazioni che ancora oggi pesano e che diciamo tendono a penalizzare il genere femminile, così come ce ne sono tante altre che penalizzano il genere maschile, un'immagine di mascolinità che è comunque pesante per gli uomini di oggi e quindi credo che parlare di femminismo oggi sia importante, sia importante farlo soprattutto con le nuove generazioni, di modo che riescano a liberarsi il prima possibile di alcuni stereotipi e di alcune idee. Sicuramente una ragazza perfetta può aiutare in questo, anche perché la storia è costruita molto bene, sicuramente interessante è il rapporto che c'è tra la protagonista e la sua migliore amica, Chloe, che è la prima a, potremmo dire, andarle contro, è la prima alla quale Marine si confessa ed è anche la prima a dubitare di quello che sia successo, infatti le chiede, ma sei sicura? Ma non è che hai frainteso? Ma non è che lo hai provocato? E infatti il rapporto tra queste due è anche la cosa che all'interno della lettura mi ha fatto più soffrire, perché Chloe è molto aggressiva nei confronti di Marine, non la riconosce, la critica fortemente quando Marine inizia a mettere in pratica una serie di atteggiamenti, è scostante, non le permette di chiarire. E infatti in questa dinamica, diciamo che, in questa dinamica ho sofferto parecchio, diciamo il personaggio di Chloe è uno dei personaggi con cui ho avuto più difficoltà a relazionarmi, perché provavo veramente fastidio nel modo in cui era chiusa, anche se sin da subito si sospetta che ovviamente tra lei e Bex, ovvero il professore, ci sia qualcosa e lo si sospetta perché Chloe condivide questa infatuazione che ha nei confronti, condivide con Marine l'infatuazione che ha con il professore. Quindi diciamo che poi alla fine, appunto, quando questo flirt viene fuori, finalmente Chloe capisce di essere stata raggirata, di essere in realtà stata manovrata da chi è molto più grande di lei e di conseguenza avrebbe dovuto comportarsi in maniera del tutto diversa. Leggere questo romanzo è anche interessante per capire quale tipo di approccio noi abbiamo nei confronti di queste situazioni qui, nel senso che leggendo la storia di Marine e la storia di Chloe si può essere portati effettivamente a dire ma come, erano innamorate, cioè sembravano innamoratissime e poi che cosa è successo. E invece, e io ritengo che questa sia la cosa proprio più significativa del romanzo, anche più interessante, il fatto che veniamo messi di fronte a questa situazione qui, in cui è chiaro che le ragazze agiscano con l'ingenuità dei 17 anni e che agiscano pensando a qualcosa che esiste solo nella loro testa, che nel momento in cui si trovano di fronte alle conseguenze pratiche e reali della loro infatuazione, ovviamente sono spaventate, ma perché sono giovani? Sono giovani e vivono dei sentimenti che appunto sono superficiali, sono vissuti solo nella propria testa. La responsabilità è ovviamente di chi è più grande, di chi ha già vissuto quell'età e di conseguenza ha un ruolo poi fondamentale che è quello dell'educatore. Quindi è normale che dovrebbe fare meglio, dovrebbe appunto essere una persona migliore, dovrebbe rispettare il suo ruolo in maniera molto più ligia. Un'altra cosa sicuramente interessante è il rapporto tra Marin e il suo nuovo ragazzo che viene cresciuto da due mamme, che sono appunto da una coppia di fatto, da due mamme ed è molto interessante perché questo esempio positivo di mascolinità sicuramente rappresenta l'uomo comprensivo, infatti lui è il primo a dire finalmente a Marin che il professore non si doveva assolutamente permettere. Quindi questa relazione inserita all'interno del romanzo secondo me è molto utile per capire che appunto femminismo non significa esclusione del maschile, ma il maschile può essere comprensivo nei confronti del femminile e le due parti possono assolutamente condividere, accettarsi, lavorare insieme per un mondo migliore. Quindi questo mi è piaciuto tanto. Vi dico, è un libro che scorre, cioè che si legge in pochissimo tempo, è ottimo per la spiaggia, veramente ottimo, io l'ho letto al mare. Vi incuriosirà e ripeto, a parte alcuni risvolti un po' di dascalici, alcuni periodi un po' di dascalici, in realtà si tratta di una lettura assolutamente piacevole, per usare le nostre solite metafore alcoliche è un cocktail, a me piacciono molto zuccherosi quelli alla frutta, un cocktail quindi di questo tipo qua, zuccheroso, colorato, fresco, adatto all'estate, direi un cocktail analcolico, così va benissimo anche per i minorenni. Detto questo, vi invito a scriverci i commenti in cui ci dite che cosa ne avete pensato di questo libro. Tra qualche giorno uscirà anche la recensione in cui vi racconto qualcosa di più, quindi potete leggere anche quella, commentare anche quella. e vi lascio con il libro del prossimo mese che è questo, ovvero la biblioteca di mezzanotte di Matt High, pubblicato per Edizioni E.O. si tratta di un fantasy nel quale si racconta di come alla fine della vita esista questa biblioteca di mezzanotte nella quale è possibile vedere tutti gli esiti possibili delle scelte compiute in vita e di conseguenza è possibile anche modificarle. È ovviamente un romanzo che appartenente appunto al genere fantasy, in cui una cosa del genere, almeno a livello reale, non è ancora stata verificata, ancora non è possibile. Mi interessava proprio questo aspetto, l'idea di poter rivedere le proprie scelte, di poter magari cambiare strada e le possibilità, le varie vite parallele, no? Che uno potrebbe vivere semplicemente facendo una scelta diversa, insomma un po' un libro alla sliding doors. Come ho trovato questo libro? Semplicemente mentre io stavo leggendo Una Ragazza Perfetta, mia sorella, leggeva questo, mi ha incuriosito la copertina, mi ha incuriosito il titolo, ho letto la trama e ho detto ok, questa sarà la mia prossima lettura. Quindi vi invito a leggerlo con me nel mese di agosto, così poi ne potremo parlare a fine mese. Vi ringrazio per l'attenzione e buona lettura a tutti!